Martellago aveva perso il costoso cellulare dopo una serata agostana di Baldoria in un locale di Mestre. Non sapendo come dirlo ai genitori, ha deciso di raccontare ai carabinieri di Martellago di essere stato rapinato da quattro uomini incappucciati che, scesi da un furgone in corso del popolo, gli avevano puntato un coltello alla gola facendosi consegnare tutto ciò che aveva. I sopralluoghi sul posto della presunta rapina, la visione delle telecamere di sorveglianza, ma soprattutto il successivo ritrovamento dello smartphone da parte di un passante nei pressi di un locale dell'area di San Giuliano, hanno smontato il castello di bugie raccontato da ragazzo. È scattata quindi una denuncia per simulazione di reato e falsità ideologica.